cosa ti ho detto tutta l'estate lascialo stare quello lì non va ripreso miglio verde va lasciato perdere cosa ti ho detto tutta l'estate molti di voi si sono arrabbiati con me quando ti dicevo lascialo lì qualcuno lo rimpiange anche perché ha fatto due gol contro il casarano fai gol su cinque a zero e appena si alza il livello scompare perché diventa un punto di riferimento per gli avversari sto parlando di la cacca la cacca la cacca come lo vuoi amare quello lì ma uno che ti fa salutare da pastorello te l'ho detto mille volte va a celsi dopo tre mesi chiede di tornare a casa secondo te ma la stessa inter che lo riprende secondo te è passata bene non andava nemmeno ripreso e nonostante tutto molti anche di voi c'erano persone che lo rivolevano questo metto piccolo così ma di cosa vogliamo ragionare di cosa vogliamo ragionare occhio però che se questo vi allora innanzitutto non lo so se lui verrà a san silo ma occhio perché è molto bravo a fare la vittima eh potrebbe essere un boomerang per noi cinquantamila fischietti io sarei primo a venirlo a fischiare anzi io gli farei un gavettone non verrei a fischiare e basta però bisogna stare attenti ragazzi perché lui è molto bravo ad essere a fare la vittima lui è un è un uomo uno metto un omuncolo che non troverà mai pace e lo dovete riconoscere se siete onesti molti di voi lo rimpiangono oppure lo hanno rimpianto uno metto così poi si va a fare le pulci ai cardi che per l'amor di dio ha fatto tutti gli errori di questo mondo e a questo vi cosa bisognerebbe dirti ora l'Ital alla fine è sbottata ma se Lautaro Zanetti Moratti hanno tutti parlato male di questo giocatore ci sarà un motivo oppure no nuova cover G10 verde Arabia Saudita ragazzi sulle scommesse io questi giorni ero fuori per lavoro anche la settimana prossima starò fuori un paio di giorni per lavoro sulle scommesse cosa vi devo dire c'entrano sempre loro Buffon dalla nazionale accompagna Fagiolino e quell'altro lì non sono in grado di giocare ma che figure di merda sono davanti al mondo ragazzi il problema è che sono sempre loro ora fondamentalmente è venuto fuori il nome della Juve sembra che abbiano provato come qualcuno ha scritto e ha detto eh sembra che abbiano provato a nasconderla questa cosa sono sempre loro io te lo ripeto vanno radiati dal campionato italiano te mi puoi dire che l'Inter come ci dicono a noi soprattutto i giuventini squadra fallita siete falliti tutto dove c'è i cinesi che chissà dove è il cinese tutto quello che ti pare ma siete sempre voi a fare i bordelli noi andremo a girare un impiattino a raccattare i giocatori da altre parti ma non si fanno i cassini e fate voi ragazzi avremo un miliardo di debiti tutto quello che volete voi ma non ci vorrete mica paragonare a voi eh la Juve te lo ripeto per il bene del calcio italiano che sta perdendo di credibilità la Juve va espulsa dalla serie A perché il calcio italiano è già impicchiata verso il basso con la Juve a livello di immagine ci andrà ancora di più vanno presi e mandati a giocare in un altro campionato in Congo per esempio ma andamoli a giocare dei Marocco da un'altra parte basta con l'Italia con questi qui non è più possibile il calcio italiano quell'altro lì che doveva tutelare il marchio il calcio italiano non si può più permettere la Juventus ragazzi lo sto scherzando ora vedremo quello che viene fuori le voci sono tante ma è uno schifo ma è uno schifo ma l'avrei detto anche se ci fosse stato un giocatore dell'Inter al posto di Fagioli lì ragazzi è uno schifo siamo in calcio italiano è finito nelle barbe ormai è morto non esiste più per quello dove vai a investire te non vai a investire dove il livello è già molto alto investi dove il livello è basso e il calcio italiano ormai ha raggiunto un livello talmente basso che con poco puoi prendere delle squadre importanti sto parlando dell'Inter perché se vai a prendere un Manchester United ti ci vogliono sei miliardi e l'Inter con un miliardo la prendi capito qual è il discorso anche se sono tutti debiti ragazzi lukaku io ve lo dico cioè è inutile stargli dietro perché non gli stai dietro è uno e non troverà mai pace è un personaggio assurdo ed è uno dei peggiori giocatori per comportamento che è passato dall'Inter io te lo dico io non l'avrei nemmeno ripreso l'anno scorso e c'era gente che lo rivoleva ora ragazzi io io questa estate ho preso fischi da tanti di voi giuse ma lascialo perdere o i cinesi te lo ritrovi alla juve ma stavo scherzando nel senso quello lì va lasciato stare anche perché il signor lukaku l'anno scorso e questi sono dati di fatto tranne il gol con il porto ha fatto ridere lui te lo dico io perché fa gol con il porto te lo dice giuse perché è entrato e la squadra del porto erano stanco e poi loro erano i dieci e lo marcava pepe a 44 anni ecco perché ha fatto gol nelle partite che contavano il signor lukaku ha fatto ridere soprattutto nel periodo da fine gennaio fino ad aprile è stato più il tempo che chiedeva scusa ai tifosi vedi leccate di culo alla curva nord che andava lì gli dava le maglie scusate ragazzi non so buono scusate ragazzi non mi riesce sto palla palla scusate ragazzi ma ho provato a stopparla e mandati là era più il tempo chiedeva scusa a quelli della urva lukaku che quello che quello impiegava per giocare di che cavolo vogliamo ragionare io te lo ripeto occhio perché lui è molto bravo a fare la vittima eh perché il discorso sicuramente sono dei primi a fischiarlo ci può tornare contro attenzione perché questo qui questo è tremendo questo è uno che fa la vittima in una maniera spettacolare ci becchiamo dopo ciao cominciamo a fare la vittima